Mi scuso per quello che vedrete perché vedrete tre tipi di registrazioni diverse Eccolo! Mi chiamcio io bene Non sarebbe male, è una volta se riusciva a farlo subito Oddio! Credibile! Aspè perché tanto c'è sempre la storia tra fuori gioco no, sembrerebbe di no visto questa... Mamma mia 5 minuti in crediti! In crediti! Comunque te lo perdi Skype! Ma è stato guardato ma non ho capito! Non ho capito! No! Stavo guardando ma non ho capito! Dai, iniziamo bene dai! Facciamo le altre 6 o 7 e chiudiamo, la posizione almeno siamo tranquilli Bello! Però mi sa che qua... Buon gioco! Eccolo! Eccolo! Non è il direttore! Oh! Una strana della sera 4PP parla 9.5 e 1.5 per la nostra Svizzera Oh! Buon giusto! Oh! Si sponca poco due! Ma che fanno? Ma come si spina? Ma come si spina? No, come si spina? Ma come si spina? Non si spina! Oddio, eccolo, guarda che casino, vai, ma non è possibile, ragazzi. Oggi proprio sta saltando tutto, si sta surriscaldando tutto e bisogna registrare così via. Rigore per noi, attenzione. Dai, dai, dai. Dai, dai, oh, buono, buono, dai, 2 a 0, dai, dai. Oh, l'uomo che sbaglia porta vota, come me, tra l'altro. Oh, guarda che gioini. Oh, io, io. Ma a momenti fa gol. Ma a momenti fa gol, ha vincito subito, ti dai diotto. Non è che si è convinto tanto, eh. Poco, secondo me. Oh, che si è inventato! Oh! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma che cazzo! Fuori gioco. Era fuori gioco. Sì, però, ha fatto un tiro di merda, scusatemi, ragazzi, ma... Siamo tutti lì. Meno male, meno male. Madonna, ragazzi, non prendiamo gol adesso, vi fate incazzare. Sì, è sempre loro. Va, va, va. Corri! Corri! Come un dannato! Ma cos'è? Vai! No, Dio, boh, ma che... Sì, ma è rischiato, eh. Dio, boh. Se gli parte la palla... Ma... Va in porta a quell'altro. Ma voglio. Madonna, ragazzi, ma stiamo... Ma stiamo... Ma stiamo attenti, ma perché? Cerchiamo di finire senza prendergo. Vorrei dire che li faremo sempre col telefono. Alla fine sono quelli che funzionano bene. Vabbè, l'altra volta si è surriscaldata. Sì, ma se è surriscaldato quello non si accende più. Se è surriscaldato questo, è... Non funzionava più nulla. Mi devo organizzare meglio per le prossime volte, gente. Purtroppo... Il budget al momento ci consente di far così. Si può dire perché la gente come... Salutiamoci Bernanà. Visto che l'abbiamo citato. Guarda che ci slanno. Monsumano! Eccolo! Un saluto all'Interclub di Monsumano. Ma ma buttala bene! Ma perché non proviamo a far... Perché? Perché? Io... Va bene. La partita è vinta. Ma ragazzi, bisogna provare a gioare fino alla fine. Dio santo. Beh, c'è da dir che non ha affatto male per quanto ha giocato. Questo glielo dobbiamo concedere. È finita. Fine! Buono, gente. Buono. Ce la siamo portati a casa. Ne abbiamo approfittato. Un saluto. Dai, cugini milanisti. Ciao, eh. Ciao. Ci vediamo al prossimo video.